La scrittura talvolta è in grado di metrattizzare i dolori, sconfiggere il primo antico, di cominciare a contrarre. La cosia della loro persona che è tutto questo, saper vivere al proprio amico, resistere alla diversità. E' l'edica di altri tempi, ci si fa, con una struttura che si agga, ma non ora come continui da se gli anni. E' eterno, in vecchi e versi di anni, una diversità di brani crocianti come i costumi delle palle. Non si può, ora, che inbloggiare l'auta, davanti a tutto questo, o verso tutti i concetti mancati, con una forma periziosa, eterna. Io leggo la versione di Aleppo Medico, e lui legge la versione di Italiano. Quanti anni ho passato, da che dì che so partire, e tutto voi la sa, lontan dalla metera, son da dura la testa, in che cantone mondo, dove voi migrati, sangue amaro, ma si può, cuore a etro e senza raise, l'ora è adesso più che mai, ma resta solo, una picua insoddisfazione. Nessuno, per cui accortar via, nel mezzo che tinta è verde, e quando sarà il momento, non voglio andare sotto cuore, ma fra i grassi del mare e terra, sarà la mia sepoltura. Ma c'è poi, questo bisogno di leggere l'italiano, era totalmente comprensibile. Quanti anni sono passati, dal giorno in cui sono partito, tutto ho lasciato. Lontano dalla mia terra, sono andato, è stato tutto. In quell'angolo di mondo, dove sono è di grado, sangue amaro, ho scutato. Oh, e senza radici, allora e adesso più che mai, mi resta solo, una piccola soddisfazione. Nessuno può portare via, il mio pezzettino di verde, e quando sarà il momento, non voglio andare in un lopolo, ma fra le braccia di madre e terra, sarà la mia sepoltura. grazie. Applausi. Applausi. Grazie.